Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo tutorial vi spiego come entrare nella scheda proprio nelle funzionalità attiva o disattiva le funzionalità di Windows ovviamente puoi entrare in tanti modi quindi o lo scrivi qua sopra tipo attiva o disattiva funzionalità di Windows se non hai questa funzionalità qua sopra che non ti esce puoi sempre andare sul pannello di controllo ci clicchi sopra vai su programmi attiva o disattiva funzionalità di Windows ti aprirà così la funzionalità di Windows e qui potrai fare quello che devi fare quindi se ti è stato utilissimo questo piccolo tutorial su come aprire la funzionalità di Windows iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao